parli sempre con la tua voce ciao 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 Paolo allora tutto bene Santa Zona Cesarini però mi devi rispondere diciottesima volta che togli Bernardeschi eh avevi sentito i cori della curva che ce l'aveva già un po' con te non è che hai provato ad attizzare animi ancora più bollenti grazie io provo solo a vincere la mia decisione è stato per quello cioè rinfrescare quelle posizioni ehm per poter comunicare più anche con gli esterni ehm e dopo creare più velocità e intensità e prese decisione nella parte nell'ultimo terzo del campo che ci potesse permettere vincere credo che Federico e Riccardo quando prendiamo una decisione di questo genere sappiamo che ci portano tanto in fase eh di possesso e meno in fase di non possesso quello mh durante la prima parte eh le abbiamo ottenuto ci abbiamo sofferto sappiamo eh di quello nei nei contropiedi dei nostri avversari ehm ma comunque abbiamo creato abbiamo creato tanto per poter anche vincere prima premiate alla fine eh per lo spirito giusto dei ragazzi che hanno iniziato e quelli che hanno intratto perché eh vogliono vogliono vincere e dopo alla fine sono stati premiati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti